Di bullismo e cyberbullismo si è parlato nel convegno svoltosi a Montorio Alvomano promosso dall'Associazione Monte d'Oro e dal Centro di Aggregazione in collaborazione con il Comune di Montorio, l'Istituto Comprensivo Montorio Cronialeto, un dialogo costruttivo nel quale sono stati offerti ragazzi importanti spunti di riflessione e consigli sugli strumenti da adottare per prevenire e contrastare questi fenomeni di violenza, prepotenza e prevaricazione perpetrati da pari personalmente o tramite un monitor in un contesto di gruppo. Comportamenti che compromettono le potenzialità di sviluppo delle vittime che spesso si vergognano a parlare e che non vengono difese dai propri compagni. L'insegnante è un punto di riferimento per i ragazzi e può dare un contributo notevole per riconoscere i fenomeni di bullismo, per contrastarli evidentemente e per fare in modo che ragazzi potenzialmente vittime, potenzialmente protagonisti in negativo di questo fenomeno prendano coscienza, abbiano consapevolezza delle proprie azioni, delle conseguenze che le proprie azioni possono determinare sugli altri e il confronto con i docenti, con tutto il personale io direi in modo proprio vasto e allargato all'interno della scuola ma anche con chi fa parte della comunità scolastica per tangenze diverse. Secondo il rapporto del Censys nel 2018 il 28% dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni è stato vittima di bullismo e l'8,5% di cyberbullismo. Lavorare sullo strumento, conoscere lo strumento in tutte le sue potenzialità, non credo ci sia altra via. Davvero poterne cogliere tutte le potenzialità e svilupparle, perché sono tante, e però anche rendere i ragazzi consapevoli di quanto male si possa fare, di quanto pericolo si possa incontrare personalmente in un utilizzo sbagliato. La rete è naturalmente un luogo dei potenziali talmente forti che può essere una grandissima opportunità, può essere un rischio.